Ritengo che in questo anno ci sia stata un'inversione di marcia rispetto agli ultimi anni perché abbiamo raggiunto determinati risultati con miglioramento dei servizi a favore dell'utenza. Ben 600 nuovi autobus per un piano di 140 milioni di euro, così come finanziamenti per Trenitalia e per Ferrovie della Calabria. Tutti i finanziamenti ministeriali che sono stati canalizzati correttamente e con una gestione che ha anche consentito di recuperare i ritardi di alcuni anni, per esempio rispetto al riconoscimento del contratto collettivo nazionale del 2019. Erano fondi che non erano presenti e che abbiamo potuto recuperare con delle economie gestionali. Ci sono stati poi tanti altri servizi aggiuntivi tramite Trenitalia, di cui avevamo dato informazione anche durante il corso dell'anno e quindi ritengo che si possa dire che ci sia stata questa inversione di marcia. Per quanto riguarda il Sibari-Bolzano, siamo riusciti a mantenere un servizio che l'utenza richiedeva fortemente in un'area strategica anch'essa come gran parte della Calabria con scarsa accessibilità e quindi questo è uno dei servizi che abbiamo ritenuto essenziali e che è stato prorogato per il 2021 proprio perché si possa portare a termine quella sperimentazione che nel 2020 è stata frammentaria a causa dell'emergenza epidemiologica. Per quanto riguarda la scuola, la ripresa del 7 gennaio che in questo momento sembra essere confermata, alla ripresa si troveranno i servizi e il trasporto pubblico locale della Calabria pronti con un piano operativo. Come sappiamo l'ultimo DPCM ha delegato alle prefetture il coordinamento di queste attività e ritengo che la Regione Calabria abbia instaurato un ottimo rapporto con tutte e cinque le prefetture di collaborazione per poter garantire un coordinamento adeguato tanto che siamo arrivati ad avere un piano operativo efficace in tempi brevissimi. L'auspicio è che proseguendo sul percorso già avviato negli ultimi mesi del 2020 si possano cogliere i frutti di queste azioni con servizi integrativi e con una serie di attività tecnico-amministrative che portino veramente all'utenza calabrese il servizio che si merita e che da troppi anni attende.